Il centro storico di Serre ospita la Festa dell'Olio con due giorni di convenni, musica e degustazioni. Due giorni dedicati all'oro verde, una full immersion nella tradizione e nella cultura legate all'olio d'oliva, autentico riferimento storico, culturale ed economico della provincia a sud di Salerno, che in questa occasione trova in Serre la sua capitale. La Festa dell'Olio d'oliva stabilisce un doppio appuntamento per sabato e domenica nel centro storico della cittadina salernitana, una a due giorni che si sviluppa attraverso occasioni di riflessione e momenti scanditi da musica popolare, tradizione e della nuova astronomia. Sabato, nella Biblioteca Comunale Attilio Valerio Conforti alle 17, convenio specialistico sul tema L'Olio d'oliva extravergine, a cura del professor Gaetano Avallone, modera la giornalista di Alice TV Rosaria Sica. In serata e poi per l'intera giornata di domenica, il centro storico di Serre si trasforma in un autentico palcoscenico e luogo di ritrovo con musica popolare itinerante e degustazione di un menù tipico popolare che sarà disponibile sia a pranzo che a cena.